Mi raccomando ragazzi se questo video vi è piaciuto e io l'ho visto totalmente antipatica potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere Mi raccomando fallo! Robby ma ti sei messa a fare la intro al posto mio? Vabbè comunque sei stata brava Buona visione Ragazzi oggi siamo su evade a scappare dai next bot con Robby e Cat Sì è una copiata abbastanza particolare Perché siete voi i next bot no? Guarda siete talmente due meme che camminano Beh in effetti sì Ma cosa tieni? Cosa ho? Ma cos'è quel mini Winnie the Pooh? Ah a me non si vede sì ho un Winnie the Pooh a fianco No ragazzi mi sa che è spawnato Chi è spawnato? Non ne ho idea lo scopriremo a breve ho una torcia Oh no Oh dove è? Non lo so No Via 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 No 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 Che ci serve? No 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 Ma sta seguendo voi vero? Non lo so io penso che siete trocchetti Io sto scappando No 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 sta seguendo me sta seguendo me sta seguendo me Io non so dove sono No ragazzi vi ho persi Ciao Poggo Aspetta dove è? Oh mio Dio Vai 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 Ma almeno sappiamo dov'è adesso Eh in realtà no E non lo so questa mappa Ok Kat è qui Ciao Poggo Robby dobbiamo trovare Robby Aspetta non so dove cavolo sono Sono tipo in una libreria Una libreria? Cosa è diventato dors? Aiuto Non lo so Aspetta Ti vengo a cercare Ecco ho visto un gatto salvatico di un verbo Gatto dove eri? Sì in una libreria Ciao Dov'è la libreria? Ciao Robby Ok 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 Dobbiamo sopravvivere il più tempo possibile Qui si vince sopravvivendo ok? Restiamo vicini Vabbè è facile Eh sì adesso ce lo troviamo avanti Non è tipo più pericoloso di stare lontani? No Con F prendi la torcia Con F prendi la torcia Ci siete voi due ragazzi un quadro mostro Che vero sono famoso Ma che bello Tu sei molto triste Perché sei triste Perché stai ballando Vabbè lasciamo perdere Andiamo Allo dove sei? Piccolino Ma perché questo posto è pieno di gatti È la casa di Kat È la casa di Kat Esatto Io mi sto cacando sotto fortia No 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 Di qua di qua di qua di qua No 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 Dietro di me è vero Sì è dietro di noi No Mi sa che è dietro di te Arriviamo Arriviamo Una stanza chiusa No 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 Eccola 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 Di qua di qua di qua Via 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 Che ansia che ansia mamma mia Via 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 C'è qualcuno dietro no? Che siamo salvi Dove siete? Da qui 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 ci siamo Roby vieni 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 Ciao Eh Kat Mi vieni Dove sei Abbiamo notato Era dietro di noi E poi è arrivato dietro di te Sì ma quanto manca Lo dice il tempo No non lo dice Scappa 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 No 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 ma perché sono dietro Salta Via 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 Che sono preso Si vengo a prendere io Si vengo a prendere io Non anche Roby 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 Andiamo da Kat Eh mi sa che è morto anche lui Facciamo schifissimo Eh Halo c'ha leggermente perseguitati Ma proprio un pelo Ciao Paolo Eh Ma lo senti? Ciao Ciao ragazzi C'è questa tizia che sta dormendo E fa dei rumori strani Che spavento Via 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 Ragazzi sono entrati in un server pubblico Così almeno possono salvarci meglio Via 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 Vieni Roby Tipo i squid game Tipo No Kat Che stanno volendo tutto Non lo so Ma che è schifo E ho capito Dobbiamo tornare indietro a salvarli Sì ma io ti ho perso Vieni 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 Sì ti ho visto Andiamo 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 Ma quanti ne sono? No 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 Ne sono troppi Ciao Paolo Attenta Roby Scappa 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 Ok ok andiamo da Roby Dobbiamo aiutarla Dobbiamo aiutarla Ok let's go Ok piano Se ne sono tantissimi Eh No 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 di qua no di qua No di qua no di qua no Devo cercare di salvare qualcuno Questo Ho preso qualcuno Vai vai salvalo Noi siamo qui a guardarti Sono appena morto No 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 Allora dobbiamo salvarti No 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 Dove sei morta? Arrivò Allora sono tipo una Quando qualcuno mi sta portando via Ecco Ecco No 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 Mi sono incastrato Maledetto Tony Stark Baba Boo Salvatemi Vi prego Ok ci sono arrivo Ti spero che ci metterò Tutto il mio impegno Dove siete però? Non lo so Sono vicino a dei muri gialli Sono vicino ad altre persone No vi prego Non ho più forze Io e il mio Winnie the Pooh Siamo stremati E' un crew che vuole ammazzarmi E' quello il problema Ok chi è questo? Vedo delle persone qui a terra Sì Sono morto Sono morto Sono morto appena sei arrivata Non ci posso credere Ma che sfiga Ciao Round speciale Munci arrabbiato Mi sa che questo è veramente forte Ragazzi Dove siete? Dove siete Roby? Cat? Siamo vicino a tante cose colorate È tutto colorato qui Mi sono caccato addosso Non lo so ragazzi All'inizio mi sono veramente caccato addosso Questa è stata brutta Roby 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 Aiuto Corri 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 Vai 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 Portami via Portami via Ma che schifo ma facciamo pena su questa modalità Mi sta aiutando alla maglia del cane Dai vi prego aiutateci ma cos'è una gara tipo squid game vince chi striscia meglio Ma la trascinata malissimo è stata veramente triste salva che io sono morto ormai salvalo Andiamo 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 io seguo Roby mi sembra abbastanza esperta di next bot Io sono una cosa sui labirinti se segui sempre il lato destro trovi sempre l'uscita Sai che mi sa ma noi stiamo andando a sinistra adesso Esatto Ma io seguo il lato destro il lato destro della parete E ma se è un quadrato qual è il lato destro della parete Questo qui tu segui me non ti preoccupare Va bene io ti seguo No ragazzi ho spawnato via 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 Devo ricongiungermi ai miei amici Roby cat cat che stai facendo Sto ballando No no flame mi scusi La ringrazio Andiamo 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 Pogo una challenge Dov'è di quelli che stanno morendo? Sì Se sei davvero un Pogo Ok Che devo fare? Valla a prendere e salva uno Ma siamo in un labirinto ma già è assai che trovo la strada di casa Figura ti sei riascando da sopravvivere Ce la puoi fare devi salvare qualcosa perché tu sei Pogo Va bene posso farcela super Pogo in azione Let's go No 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 super Pogo in azione No 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 super Pogo in azione Super Pogo in azione Dai Vai e ci puoi fare Oddio gli sono riuscito a seminare Salto 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 della quaglia Via 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 No ragazzi c'è un teschio bruttissimo Sì Sto rivivendo un tizio ho superato la challenge Non sono stato io ma non fa niente non lo diciamo a nessuno Allora forse non vale tanto No 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 vale vale non ti preoccupare Non ti preoccupare vale ci penso io Oddio ma dove sono i next bot ragazzi io voglio vincere almeno un round vi prego Non lo so ma io lo so che non ho ancora capito chi è il next bot È quelli piatti in 2D brutti o ripilanti e che circa fanno Quelli sono i next bot Ok è una descrizione molto particolare cercherò di riconoscerli Io sono la strada per la sopravvivenza venite con me Ora ci porto a sparire eh guardate No 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 io non ti porto dei next bot Allora aspettiamo un po' ok Seguitemi tutti seguitemi Sì sì Perfetto venite Vai solo un po' più avanti te Poggo Oh non fare l'infame Sono sempre il primo mi raccomando eh Certo perché io sono più coraggioso di voi Ok I primi saranno i primi E gli ultimi saranno i primi prima o poi Aspetta ma dov'è il next bot Non lo so non lo so Ma secondo me sono despaunati i next bot Secondo me non ci sono più Li abbiamo buggati Allora sono sicura che il labirinto non ce lo fa vedere Questa è la cosa più spaventata No no secondo me li abbiamo spaventati così tanti È vero Che dobbiamo fare con i regali Nel dubbio tu prendili sono sempre regali Che fai tu non gli accetti i regali a Natale Seguitemi Seguitemi Roby Abbiamo perso Roby Vieni Vieni Roby Ok piano piano Cosa è successo? Ho visto la luce siamo in paradiso Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ok la prima Sì Restiamo tutti insieme Cheat Siamo tutti separati Fantastico O forse l'unico separato sono io Aiuto Sì sei l'unico separato Fatemi entrare Vi prego ci sono le serrande chiuse No 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 è morto Ma mi ha ucciso Sonic Ma dai No aiutami mi prego Non ne posso più Descrivi il posto dove ti trovi Ci sono delle pareti gialle Va bene Oh Sonic Ok allora siete vicini Venite ad aiutarmi Che cosa aspetta eh No vi prego Cat dietro di te Cat Cat Girati Qua Dietro 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 dove Il corridoio dietro vieni Vieni qui Ecco Vi prego sono qui Sono qui salvatemi Correte 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 No 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 sono vivo Via Bravi bravi scusa Chiara official Non volevo farti uccidere Sono di nuovo vivo Io tengo Chiara Dove siete Eh non lo so No 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 Sonic mi sta inseguendo Ok Ok Dove siete Ce l'abbiamo fatta Abbiamo salvato Chiara Siamo negli eroi Bravi Mamma mia ragazzi avete salvato due persone Eccoci eccoci Cat sono dietro di te Ok Eccoci Eccoci ragazzi Via 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 niente Chiara è morta di nuovo Di qua da questa parte Seguitemi Ci siamo separati di nuovo Come seguitemi No no c'è uno velocissimo Ok No Mario Roby Lo si scappa Ho visto Mario No 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 Aiuto Aiuto lo sento dietro di me Dove siete Cat Cat No no Cat non morire E tu è il mare che ti stai posando davanti a me Aspetta No 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 ragazzi dove siete No 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 Mamma mia è stato abbattuto Mamma mia pizzeria Tutto se me ne sbagliate C'èwurfbanico Ci siamo左 Così Non no 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 Piccolo cieco Salta piccola Salta piccola Salta slico Troppo poco poco salta poco salta po C'era abbiamo fatta Questa è stata la partita Più bella del mondo Bravi Periodo migliore Due minuti e venti Record mondiale Cat Ma che fai Ma la smetti per favore Al prossimo video Piccola intervista a Roby come ci si sente ad essere un orsetto polare dipende dalla giornata Tu non ti intromettere sto parlando con lui scusami quindi dipende dalla giornata un giorno Sarai un orso polare anche tu un giorno sarai accettato dalla società adesso no vattene